Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della Pixel Ma ragazzi oggi andremo ad affrontare le palestre Perché sì, perché sono belle le palestre, sono interessanti E quindi giustamente è una cosa giusta da fare Intanto mi sono reso conto, veramente tipo 5 secondi prima di cominciare Che è sponato leggendario Il fatto è che non ha nemmeno senso cercarlo Perché io sono qui FK da tipo 50 minuti e robe simili E quindi chissà quando cavolo è sponato Ho dovuto, sì, lì ho cominciato il video qua perché ho trovato una palestra Che ragazzi non so se ha già affrontato qualcuno Le coordinate non sono andate a cercarle Non so quindi se è già stata affrontata Però mi sono tippato Al punto reso disponibile a tutto il server Appunto 200.000, 200.000 Sono andato un pochettino in questa direzione appunto E ho trovato questa palestra qui Come da vedere 500 blocchi più in là c'è una palestra Che abbiamo affrontato negli ultimi episodi Quindi ci può stare ragazzi Penso che comunque chi ha trovato quel punto lì Abbia trovato anche questa palestra Ma non ne sono sicuro Comunque noi andiamo a controllare Comunque, comunque, comunque Allora questa qui non so che palestra sia Se è di livello alto o basso Oh no ragazzi Questo cosettino qui vuol dire che è già stata esplorata Però, però, non è così male Perché alla fine A questa penso sia l'uscita E comunque ragazzi Noi non l'abbiamo mai fatta Oltretutto non so di che tipo sia questa qua Ok, gli allenatori sono questi Però se io volessi saltarli Penso che quello più importante sia in cima Ecco Ma come ci arrivo in cima? Ah, è un parkour da fare Ok, ok Ehm Ah, a livello anche basso la palestra Eh, vabbè Mi sfidano subito così di cattiveria Quindi ci posso fare poco o niente Ragazzi, allora Uccidendo praticamente questi Pokémon In teoria potremmo fare anche gli Evs Però il fatto cos'è? Che siccome lo sto facendo ora Non ha molto senso Perché io vorrei far livellare qualche Pokémon Perlomeno Quindi guardo un attimo Cosa ho qui Che potrebbe interessarmi Ok, boh Potrei far livellare effettivamente Dodrio Perché Ragazzi È l'unico Shiny Ce l'ho tutti al 50 Questo è l'unico Shiny Che appunto lo no al 50 E quindi Beh, nella palestra non lo uso Però Ci sta a farlo livellare Magari in futuro potrei anche usarlo Allora Qui Se io non riesco a fare questo salto Ma perché devo rischiarmela? Ah, vabbè Dai, ci provo, ci provo Oh mio Dio Oh mio Dio Ok, ho rischiato di cadere tipo Troppe volte Il parkour ragazzi Non fa per me Penso si sia capito Tutto perché se cado Cado tipo di sotto di sotto E quindi Devrei rifare tipo tutto E non mi sembra proprio il top Comunque Dai Oh Ce l'ho fatta, ok Madonna Ma se mi sfida tipo Prima che io possa arrivare al ramo Cado di sotto, mi sa Che cosa triste Comunque penso di avercela fatta E vabbè Comunque si affrontano una volta sola Quindi Mal che vada se cado La volta dopo Ce la faccio a farlo in teoria Ok, vediamo qua Cosa devo fare No, questo no Questo no ragazzi Questo è Questo è Scusatemi Ma questo è troppo Veramente Faccio così Scusatemi se griffo ragazzi La cosa E vabbè Intanto questo qua mi sfida Però veramente Non ci riesco Io sono troppo scarso nel parkour Però siccome non voglio lasciarla Tipo tutta distrutta Schifosa Io elimino anche le prove Del mio passaggio Ecco Perché sono un bravo ragazzo Questo salto qui È fattibile Sì Ci dovrei anche riuscire a farlo Ok Ok Ce l'ho fatta ragazzi Quelli che Cioè sono tutti fattibili Sia chiaro Non è che non ci sono salti fattibili Però Io intendo il fattibili Per me Che è molto sotto la media Rispetto al fattibile di minecraft Comunque Anche cosa qui Facciamoli in corpo scontro Perché ho visto che l'altro Non aveva effetto Non c'è Non ho letto se non aveva effetto Però ho visto che non l'ha fatto danno Quindi vabbè Sciuttiamoli tutti Ragazzi purtroppo Palestra a livello 15 Io non so nemmeno di che tipo sia Questa qui Forse tipo con le ottero Volante Perché è un albero Quindi In teoria negli alberi Cosa ci può stare Un qualcosa di simile Non lo so E Ok Qua ci dovrebbe essere il boss No E da qua Ok Continuo a questa parte quindi Ok Però io salgo qua E da qua non dovrei salire Però spacco la foglia E ho fatto una cazzata Perché lo so che il giro che dovrei fare Quello giusto è quello lì Però qua picchio anche le corna Però se tipo salto da qui Ce la faccio Ok Sì ce la faccio E una volta che sono qua Cosa faccio Vabbè ragazzi Io spacco tutto Ma che mi frega Veramente Per due foglie E Così sono sopra No No ragazzi No Cioè io Ho fatto tutta questa stata qui Ma potevo benissimo volare E andare qua sopra Allora Questo qui è la medaglia Zeph Ah ho capito ragazzi Ve lo spiego io Praticamente quando noi battiamo Oddio Fammi vedere lo scontro però Quando noi battiamo i tipi qua Ci dovrebbero dare le medaglie Però alcune volte Sono buggati Infatti invece che darci la medaglia Ci viene scritto zero Quindi qualcuno Non so chi Se Marci Eren O un'altra gente Dopo che hanno affrontato le palestre E hanno ricevuto le medaglie Hanno messo appunto La chest Con le medaglie dentro In modo che chi affronta la palestra E effettivamente la sconfigge Che poi alla fine basta sconfigliere Questo qua il boss finale Effettivamente può ottenere la medaglia Perché il gioco è vero e proprio Infatti dice che Cioè dovremmo sfidare le palestre Per ottenere le medaglie Ecco Quindi ragazzi Finiamo di shottarlo E io spero sinceramente Mi dia la medaglia a lui Non voglio prenderla da lì Però alla fine non cambia nulla Cioè è uguale Ok l'abbiamo sconfitto Vedete Questo qui mi ha dato zero E appunto Anche se c'è scritto Che l'ho ricevuto Questo qui zero E' un bug ragazzi Vi ripeto Non è che in verità Non me lo voleva dare E' un bug Quindi noi la nostra medaglia Ce la prendiamo E ce la portiamo a casa Tutto questa è la prima medaglia Che riusciamo a prendere Ed è figa Potrei fare una cesta a casa O metterla da qualche parte Peccato per le altre Che mi hanno affrontato Che non ci hanno dato la medaglia Ma ragazzi Ci ritorneremo in futuro E appunto la prenderemo Detto questo Io ora vado a cercare Un'altra palestra Spero di trovarne una Di livello 100 Con le boss Perché vorrei veramente Trovarla Sarebbe una figata assurda Comunque andiamo a cercarla Va bene tutto Ma il boss leggendario Va assolutamente ucciso Quindi sbam sfidiamolo Intanto come minimo Sarò crepato da questa altezza Ma poco importa ragazzi Charizard Shiny Leggendario Ci sta tantissimo Facciamo di due baldeali Andiamo tipo a distruggire tantissimo E spermo di qualcosa Tipo Master Ball Orbe Cioè io ci spero sempre Però so già benissimo Che sono droppe rarissimi Non c'è nemmeno la possibilità Di sperare Fortunuovo E cremo Cioè ma io dico Ok il drop Probabilmente l'ho anche perso Ma se avessi trovato Una Master Ball Io ci avrei smattato tantissimo Infatti sulla minimappa I pallini rossi Dovrebbero essere i drop per terra Ma come potete vedere Qui drop per terra Non ce ne sono Semplicemente perché Il drop se n'è andato Come potete vedere Qua ci sono dei drop Però sono quelli Della generazione del mondo Che appunto c'è l'acqua Ha fatto droppare le palline qua E poi ce ne sono altri Qua nella foresta Che se non sbaglio Dovrebbe essere un loot Ok questi qua Dovrebbero essere dei loot Quindi magari andiamoci Che almeno Oh ok c'è un altro lì E ci guadagniamo qualcosa Però veramente È triste fare così Vediamo un attimo Se veramente Ok sì perfetto Perfetto Master Ball con turbina dentro Turbine anzi O insomma Quello che è Quello che è Comunque vediamo ancora Se c'è il Charizard Qua sopra Ok sì perfetto C'è ancora Quindi ragazzi Andiamo lì sotto Magari stavolta Senza creparci E vediamo se si riesce a sfidare Perché io In effetti vorrei Non mi dispiacerebbe per niente Ok stavolta forse non sono crepato Spero soprattutto Lui non mi vada A shottare il mio O A parte che vabbè Ne ho tantissimi di Pokémon Pronti Per la Ho cambiato Pokémon Ho messo un Vabbè ok Ho messo un Kyogre Perché ho sbaglio ragazzi Non so nemmeno come sia successo Però va anche bene Perché Kyogre È super efficace Contro Charizard Quindi va benissimo Il punto è che ho fatto Tipo idropompa Che può fallire Quindi niente Facciamoli un Origin Pulse Che dovrebbe avere più efficacia Cioè non più efficacia Ma semplicemente più tutto E ok Non ho perso molta vita Vigor peso E una caramella rara Che io come ora Non le uso più Però vabbè ci sta anche Dito questo ragazzi A questo punto Mi cura i Pokémon E poi ce ne andiamo Intanto Vorrei vedere la mia orb Come sta messa Devo ucciderne ancora tanti Di Pokémon Assolutamente sì Assolutamente perché Qui di allenatori Se visto che non contano Quindi la palestra Me lo fa livellare Basta Il mio dudrio Però alla fine Per l'orb Non serve assolutamente a nulla Wow 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 Cosa c'è qui Comunque ragazzi Mi sono scordato una cosa Effettivamente ho messo in squadra La geoggino Per praticamente farle fare esperienza Però io non ho nessun condivido di esperienza In questo momento Ecco perché non stava livellando E niente Infatti dicevo un pochettino Ma che cavolo Così ok Comunque Allora abbiamo un Venusaurus Io ho messo il Drio Assolutamente devo cambiarlo Per fargli prendere esperienza Non volevo catturarli In verità Faccio Pokémon Cosa potrei metterci Oh dovrebbe essere perfetto Per questa cosa E gli facciamo Un Magifuoco In teoria dovrei shot No non lo shotterò mai Assolutamente Però se gli faccio un Baldeali Ora forse lo uccido Veramente Non ne sono sicuro Vediamo E sbamme ragazzi Si va a uccidere Do di riguarda gli 6.000 punti Ha fatto un bordello di livelli In verità ne ha fatto soltanto uno E ok Fascetta E caramella rara Ok il resto si droppa per terra E ci sta ragazzi Ci sta Però mi devo curare assolutamente Un altro boss shiny ragazzi Quando li vedo Io non posso fare Altro che affrontare Ragazzi Perché ovviamente Vi sto vogliono vedere Soltanto quelli leggendari In verità perché sto affrontando Soltanto i leggendari E questo mi sa Che mi ammazza tantissimo E no non voglio fare mosse Voglio cambiare pokemon E metto coyogre Perché semplicemente ragazzi I leggendari Ci possono droppare Più cose interessanti Mentre gli altri Fanno abbastanza schifo Quindi se li vedo Nemmeno le affronto Ditto questo Facciamo Un origin pulse E dio mio Che dolore che mi fa Non l'ha nemmeno fatto Cavolo proviamo Un'idropompa ragazzi Mi ha sciottato Vabbè ragazzi Io non lo so Meganium forse è buono Non lo so Proviamo un Sulla raggio Vediamo Un minimo dovrei farli Ma farà schifo Probabilmente Hai proprio immune Ah no Ok un minimo l'ha fatto Però sulla raggio In effetti fa un po' schifo No ragazzi Ok io potrei Benissimo buttarci Quindi lo scontro è vinto Però voglio provare Un attimo gli altri pokemon Anzi sapete cosa faccio Provo di Mewtwo Gli faccio un psichico Voglio vedere quanto l'anno fa Perché in teoria Ecco lì sì Infatti lo devasta Quindi un altro psichico Ragazzi E si butta giù per sempre Vediamo Ha fatto un altro livello E qua mi ha dato Ok c'è un cuore Che bello Un vestito Il resto si può anche buttare Non mi interessa Ho l'inventario tipo Piano di schifezze Butto via tipo questi Che non mi servono a niente Ma ragazzi Ma Alla fine nella squadra mia Di forte c'è soltanto Oh e Mewtwo Giustamente Kaiokar è già lì Nemmeno tanto Meganium Beh oddio E Zangus Che attualmente Fa un po' tanto schifo Però non è proprio Una delle squadre migliori Però sicuramente Quella di livello più alto Ah beh C'ho anche Zapdos Che in questo momento Non c'erano le squadre È vero Me ne ero scordato Poverino Ragazzi Io non sto scherzando E' tipo 30-40 minuti Che sto explorando il mondo E' tipo E' tipo tantissimo Veramente Mi sono allontanato Infatti Non so quanti migliaia di blocchi Dal post iniziale In cui appunto Ho trovato le cose E niente Di villaggi Ne ho trovati veramente tantissimi Qua sembra che ci sia un coso Infatti mi sono fermato a controllare E no Non è assolutamente niente Detto questo Io non so più cosa fare Perché tipo Non riesco a fare una palestra E penso a questo punto O intanto le mele Si prendono anche tutte queste dettine qui Che andrò a chiederla a qualcuno Magari che l'ha già affrontata E magari mi vuole passare le coordinate Ovviamente parlo di palestra A livello 100 Di quelle stroppi Comunque Giusto per concludere Perché qui c'era un loot Magari Per fine episodio Ci va veramente di luce Si trova una cosa Veramente bella Infatti si trova Fire Blast E vabbè Io lo prendo Dai Butto via Le lacrime di Ghast Tanto non servono a nulla Oltretutto E' un blocco buggato Di luce Che bello Comunque ragazzi Niente Io spero che questo video Lo esistimo Vi sia piaciuto Mi è dispiaciuto Effettivamente Aver affrontato soltanto una palestra Però abbiamo affrontato anche un po' di boss Un po' di lezzatine E robe varie Vi prometto Che nel prossimo episodio Farò di più Perché ne sono sicuro Ragazzi Ve lo prometto proprio Ma per oggi Finisce qui Quindi Ciao a tutti